Il campionato 2011-2012 dell'NBA non è ancora iniziato, ma i fan del basket potranno ingannare l'attesa dedicandosi a NBA 2K12, il nuovo videogioco di basket di 2K Games. Un titolo ricchissimo di opzioni e di modalità di gioco che ambisce ad essere il punto di riferimento della categoria. Per capire se l'obiettivo fosse a portata, il nostro Fabio Devoti ha speso ora e ora a giocare per raccontarci punti di forza e punti deboli di questo titolo. Ecco la nostra recensione di NBA 2K12. Con NBA 2K12 i ragazzi di 2K Sports hanno voluto alzare la soglia nell'ambito delle simulazioni di basket, dando vita ad un titolo completo e ricco di modalità di gioco, alcune delle quali profondamente rinnovate e migliorate rispetto al passato e ora riproposte al meglio della loro forma. Oltre alla classica partita veloce, alla modalità stagione e playoff, una delle novità di questo titolo è rappresentata da associazione, in cui dovrete gestire la vostra squadra preferita negoziando i contratti con i giocatori e lo staff, organizzando gli allenamenti e perfino gestendo il draft, ossia il sistema di scelte dei giocatori senza contratto provenienti dai campionati minori. Altra modalità interessante è quella chiamata il mio giocatore, una sorta di carriera in cui dovrete impersonare una matricola che si ritroverà catapultata nel campionato NBA, con il fine ultimo di riuscire ad entrare nella prestigiosissima Hall of Fame del basket. Potrete decidere caratteristiche fisiche e tecniche del vostro alter ego, dopodiché disputerete una partita di prova che servirà a valutare le vostre capacità e individuare il team più adatto a voi. Seguiranno dei colloqui con i talent scout delle squadre interessate e infine il contratto con una di queste. Durante i match dovrete raggiungere gli obiettivi proposti e così facendo acquisirete punti esperienza da spendere poi per migliorare le vostre tecniche di gioco ed essere più competitivi nelle sfide successive, l'equivalente dei perchi in uno shooter insomma. La modalità NBA, creazione di una leggenda, ha un approccio simile, solo che qui non impersonerete una matricola qualunque, ma un giocatore realmente esistente che dovrete portare al successo. NBA 2K12 è in tutto e per tutto un'accurata simulazione del gioco del basket, forte di un repertorio di mosse e azioni così vasto da rendere quasi ostico il tutorial, passaggio obbligato del resto se vorrete padroneggiare al meglio le tecniche di gioco. Presa confidenza con i controlli potrete addirittura rigiocare le sfide più celebri della storia dell'NBA o dar vita ai vostri match impossibili tra le leggende dell'NBA con la modalità NBA Legend, una chicca che rende questo titolo irrinunciabile per qualsiasi fan del basket simulato. Dal punto di vista tecnico, in NBA 2K12 c'è del margine per migliorare. La grafica non è al top, ma la regia è spettacolare e riesce a riprodurre le stesse inquadrature utilizzate durante i veri match. Un appunto va mosso al multiplayer online, che è valido, ma non eccelle per la poca personalizzazione dei matchmaking e poi per una certa lentezza nella ricerca delle partite. Nulla però che non possa essere risolto con il rilascio di una patch. In definitiva, NBA 2K12 si conferma come uno dei migliori titoli sportivi di quest'anno, un gioco straordinario nella sua completezza, ricchissimo di opzioni e di modalità di gioco. Escludendo il comparto online e la difficoltà proposta dal gioco, troppo alta per i neofiti, NBA 2K12 è praticamente perfetto. 2K Games ha fatto un gran lavoro con questo titolo. Se siete quindi fan del basket, NBA 2K12 vi terrà incollati allo schermo come mai prima d'ora. Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti